Radio Calaritana, informazione, cultura, spiritualità. Oggi parliamo di... Cari ascoltatori ben ritrovati sulle frequenze di Radio Calaritana, io sono Roberto Sedda, come sapete ogni giovedì parliamo di libri di genere, in particolare in questo periodo affrontiamo il genere avventuroso e vi avevo promesso che questa settimana avremmo parlato di un libro popolarissimo verso cui tutti hanno una grande simpatia e che hanno letto da ragazzi e ricordano con piacere e che è Il giro del mondo in 80 giorni di Giulio Verne. In realtà non avevo ancora parlato di Verne in questa ciclo di puntate ed era una carenza senz'altro importante anche perché il viaggio nella letteratura avventurosa è una delle dimensioni costitutive, la maggior parte delle avventure comporta in qualche modo un viaggio per il protagonista e nessuno ha saputo interpretare il tema del viaggio probabilmente bene come Giulio Verne. E voi sapete che la collana di libri che era praticamente da lui totalmente monopolizzata e che serviva a raccogliere tutte le avventure che man mano Verne sfornava, tra l'altro con una cadenza abbastanza incalzante, si intitolava a questa collana I viaggi straordinari. Proprio a riconoscere che in realtà tutte le avventure messe in scena da Verne non erano altro che dei viaggi. In qualche modo c'era un patto tra il pubblico e Verne, il pubblico voleva viaggi. Quando parliamo di Verne parliamo di una scrittura già diciamo in un ottocento abbastanza avanzato in cui come vedremo non rimanevano tanti luoghi sconosciuti agli europei, tanti luoghi ancora da scoprire. Si trattava invece di far vedere che attraverso quei luoghi ormai era possibile viaggiare. E Verne si prestava a questo gioco con una grandissima capacità di trovare ogni volta un pretesto diverso che permettesse agli eroi dei suoi romanzi di prendere, partire e andare nei luoghi che attraverso i protagonisti anche i lettori volevano visitare. Pretesti veramente complicati gestiti con una grandissima abilità in grado di giustificare come si potessero mettere magari nello stesso romanzo anche luoghi fra loro molto lontani. Vi faccio un esempio, ho letto da poco i figli del Capitano Grant, il romanzo che viene prima 20.000 leghe sotto i mari e ne costituisce in qualche modo la premessa. Bene, nei figli del Capitano Grant noi attraversiamo l'America Latina, l'Australia, la Nuova Zelanda e diversi altri paesi viaggiando per mare. Ora, come riesce Verne a mettere in scena dei paesi così lontani come l'Australia e l'America Latina, le Ande con le montagne della Nuova Zelanda? Lo fa perché ipotizza che ci siano dei naufraghi che hanno lanciato una bottiglia in mare chiedendo aiuto, il messaggio nella bottiglia si è parzialmente cancellato e perciò noi abbiamo soltanto la latitudine e non la longitudine. I soccorritori ogni volta fanno un'ipotesi diversa su quale sia il luogo esatto dove stanno i naufraghi, ogni volta questa ipotesi è sbagliata e perciò devono continuare in pratica a fare il giro del mondo lungo lo stesso parallelo finché non trovano il luogo giusto. Voi capite che è una cosa che apparentemente è di una macchinosità impressionante, raccontata così voi dite ma è una boiata, è una cosa noiosa. Verne ha la capacità di prendere un pretesto del genere che veramente quasi quasi non sta in piedi e di renderlo verosimile. Non solo ma nel frattempo di far apprezzare al lettore man mano che visita tutti questi luoghi le particolarità di quei luoghi, la fauna, la flora, la popolazione, persino i fenomeni naturali, come se fosse una specie di guida del touring club però avventurosa. Non è da tutti questa capacità, tant'è vero che Verne a buon diritto è diventato uno degli scrittori d'avventura più famosi, più apprezzati anche a molti anni dalla prima pubblicazione dei suoi romanzi. Come possono i personaggi di Verne compiere questi viaggi straordinari? Attraverso una pluralità di mezzi, noi incontriamo mongolfiere, sottomarini come sapete e così via, però due sono gli elementi principali, anzi uno è la forza a vapore, il motore a vapore è ciò che consente a questi europei di girare tutto il mondo. La forza a vapore alimenta le navi a vapore e alimenta i treni, allora ho scelto come pausa musicale una canzone che parla di un treno, un treno che corre nella distanza, Long Train Running dei Doobie Brothers. Cari ascoltatori ben ritrovati sulle frequenze di Radio Calaritana, stavamo parlando di Giulio Verne, ne ho fatto un po' un'introduzione in generale parlando dei suoi viaggi straordinari, ma io vorrei consigliarvi di Verne un romanzo in particolare che è come ho detto Il Giro del Mondo in 80 Giorni. Il Giro del Mondo in 80 Giorni ha ancora una volta un pretesto che però è un pretesto molto divertente, cioè c'è un signore inglese che si chiama Phileas Fogg e anche questo è interessante perché i protagonisti di Verne, che era francese, sono tutti inglesi. Perché? Perché in qualche modo nei suoi lettori prevaleva la convenzione che i personaggi esploratori, i personaggi che andavano e compivano imprese di questo genere, dovevano essere inglesi. Un po' come ai giorni nostri gli investigatori privati devono essere tutti americani e vivere a Los Angeles. No, ecco, c'era una convenzione del genere per i romanzi di Verne in cui i protagonisti sono sempre inglesi, anzi dei nobili inglesi, dei lord o comunque delle persone abbienti come il nostro Phileas Fogg, il quale è accompagnato però, per dare soddisfazione al pubblico francese che leggeva Verne, da un servitorio, un personaggio che si chiama Passepartout e che rispetto a Fogg che è flemmatico, coraggioso, nobile, di elevati sentimenti, di buone conoscenze scientifiche, invece Passepartout è un po' ignorante ma contemporaneamente molto simpatico e vivace, ha continuamente delle avventure, delle disavventure che anche un po' complicano il viaggio del suo padrone e se la sa cavare un po' in tutte le situazioni, un po' un traffichino e così via. Il contrasto tra questi due personaggi è già questo, uno dei punti di forza del libro, ma il libro ha molto di più. Vi ho detto che Verne vive in un'epoca in cui i viaggi, l'industrializzazione, la scienza permettono dei risultati prima non possibili e lui si serve a piene mani di questi progressi per giustificare i suoi viaggi straordinari. In qualche modo è l'epoca degli ingranaggi, delle macchine. Ecco, anche il Giro del Mondo in 80 giorni è una macchina perfetta perché mette in scena da una parte un viaggio che, come sapete, si deve compiere per scommessa entro 80 giorni e che è tutto regolato al millesimo come un ingranaggio perfetto perché Phileas Fogg ha calcolato che deve arrivare entro una certa data in un certo porto per poter prendere un vaporetto che lo porta da un'altra parte dove trova un treno che lo porta e così via. Per cui già il viaggio ideato da Fogg è un ingranaggio perfetto. Questo ingranaggio perfetto fa da sfondo a un altro ingranaggio che è quello per cui Fogg è convinto di stare vivendo una certa avventura che è il Giro del Mondo ma noi sappiamo che c'è un'altra avventura che si intreccia con questa ed è il fatto che c'è un poliziotto, Fix, che si è convinto erroneamente che Fogg è un famoso ladro rapinatore e che è fuggito con il bottino. Siccome non lo può arrestare perché Fogg è fuori dell'Inghilterra allora lo accompagna ogni volta tentando di costruire l'occasione per poterlo arrestare. Cioè se Fogg metterà il piedi in un dominio in sua maestà britannica e nello stesso momento Fix avrà il mandato d'arresto potrà bloccarlo. Questo non succede mai per cui il viaggio perfetto di Fogg si scontra con il viaggio imperfetto di Fix che è continuamente costretto a inseguire la sua preda fino allo scioglimento finale. Tenere in piedi questo doppio meccanismo non è per niente facile e grazie anche alla figura di Paspartout che fa da collante Verne ce lo fornisce con una grandissima abilità. Io oggi sapete che di solito vi propongo degli altri libri a partire da quello che presento come libro principale della puntata questa volta non ve ne presento altri semplicemente vi suggerisco di leggere qualche cos'altro di Verne secondo me Verne se l'avete lasciato magari da qualche anno va ripreso in mano a partire da Il Giro del Mondo di 80 giorni di cui abbiamo parlato dove ci sono tutti gli elementi di Verne più caratteristici uniti in una maniera veramente perfetta non c'è niente di troppo e niente di troppo poco ma una volta che l'avete ripreso in mano se vi piace beh allora c'è appunto 20.000 leghe sotto i mari Michele Strogoff ci sono tantissime altre storie e Verne vi può dare credo in questo caso molte soddisfazioni. Queste soddisfazioni io ve le auguro di cuore ma in ogni caso vi auguro questa settimana di avere soddisfazione dalle letture che vorrete fare. Nel frattempo vi do appuntamento per la settimana prossima vi ricordo che oggi parliamo dei libri va in onda alle 19.10 del giovedì e in replica alle 8.30 del venerdì mattina io vi auguro una buona settimana ci ritroviamo su queste frequenze fra sette giorni. Radio Calaritana Informazione, cultura, spiritualità